Generale, forse io posso spiegarle tutto. Era meglio parlare. La missione di ieri era di bombardare la città di Ferrara. Ferrara? Perché Ferrara? Come sarebbe a dire perché Ferrara? Non sai che cos'è Ferrara? È una città, in Emilia. Lo sai che c'è in quella città? Cinque minuti è l'obiettivo. Che cosa c'è? Niente. Come? Non c'è niente. Né tedeschi, né munizioni, né nodo ferroviario, né porto. Niente. Niente di niente? No. Tranne la gente, la popolazione civile. E poi c'è un monastero. Yossarian, forse ci sarà un motivo strategico. Ma che diavolo ci mandano a fare? Yossarian, non è nostro compito fare domande. E di chi ha questo compito? Quattro minuti è l'obiettivo. Sei pronto a guidarci, Yossarian? Prepararsi a sganciare. Ma che fai? Non ci siamo ancora. Togliti di mezzo, Arpi. E dai, Yossarian, così freghi tutta la missione. Che succede, Yossarian? Pronti a virare? Yossarian, cosa vuoi fare? Cosa? Smettile, Yossarian. Mi hai sentito? Pronti a virare? No, ferma, no, no. Le hanno sganciate tutte nell'acqua. Non ti va? Pronti a virare?